Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un video, di un tema molto carino a me perché sono le mie agua preferite di Sol di Janeiro. Non ne ho tantissime ma non ne ho neanche poco. Non ne ho preso le ultime uscite che sono edizione limitate, quella tutta verde acido e quella fucsia, ma non è detto che non le prenderò. Al momento non le ho ancora presi. Ho visto che su Sephora quella verde era solda o c'era solo quella fucsia o viceversa. Va bene, ma mando le ciance. Prima di cominciare, come sempre, voglio ringraziare tutti indistintamente nuovi iscritti, vecchi iscritti. Grazie, 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 grazie. E il trucco che sto indossando, perché io sono tornata al lavoro, c'era un caldo della Madonna e ora è tutto riannuvolato. Sembra che piove. Vediamo. Un rossetto di MAC e questo è il 400, che non c'è neanche luce, mi sembra il 408. Ora, ora, ora così. Dopo ve lo dico, e lo guardo con una lenta di ingrandimento e lo guardo. Dovevo prepararmelo prima, lo so, ma me lo scordo. Questa è una collezione che era uscita due anni fa. e io ce l'ho due o tre. Ogni colore di questo è la sfumatura del rosetto che troviamo, del bullet che troviamo dentro. Sono molto morbide, non sono opacchi, sono idratante, infatti io ce l'ho in il beauty del lavoro, perché invece di usare il burro, siccome voglio sentirmi a posto, truccata, le uso molto. Sono morbidi, non seccano le labbre, eccetera, eccetera, eccetera. Le trovate sul sito di MAC, penso, o ai suoi negozi, perché questa collezione, io l'ho vita, c'è ancora. E negli occhi, e stamattina c'era un sole splendido, quindi mi andava a riusare lei un'altra volta, questa pale di Stranger. Sì, non so leggere. Non so leggere, sono un po' analfabetta, è vero. Qualcuno mi ha detto, non sai leggere? No, non so leggere. Questo è il nome. Lo lascio lì, così lo vedete, e così non sto neanche a leggerlo, visto che non so leggere. Le trovate su Monolith, c'è un nome anche qua, e la palette è questa. E io ho usato questi tre colori, e adesso ve lo faccio vedere. Questo è stato il mio trucco di oggi, che ho solo applicato il rosetto, perché il trucco è intatto. Con lana è molto colorata, e me l'ha fatta una mia collega, ve lo faccio vedere più vicino. Con quelle scatoline che trovate su Shane, mi ha fatto tutta la parola, gli orecchini colorati, con la collana, e anche il braccialetto, uguale. Mi aveva già fatto questo con il nome di mio figlio, mi aveva fatto questo per la pace, questo con la A, con il cuore A, mi ripetate, ve lo faccio vedere. Quindi dice lei, tutti insieme? Sì, tutti insieme, ci devo essere tutta colorata, finisco l'estate in bellezza, tutta colorata. Vabbè, partiamo con questa agua profumata, che io ne ho solo, 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 6, 7, 8, 8, di cui due piccoline, di, quante sono queste piccoline? Di 90 ml. È la prima, 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 che ho comprato, si chiama... se la pensavo di averla qua, invece no, non ce l'ho, non ce l'ho, è questa, è Brasilian Crass, stala la prima che io ho acquistato, la prima, infatti è l'unica che c'ha il tapino, gli altri dopo non c'ha nessuno il tapino, questa è quella che ho più usato, vedete dov'è? Un po' perché stala la prima, un po' perché anche di acque profumate ne ho un'infinità, ne ho tantissime, tantissime di Vittorio Sicre, un po' perché le compro sul sito ufficiale, le compro su Notino, me le porta tantissimo mia sorella quando viene, e un po' perché le adoro, ce ne ho tantissime, questa è, di queste brand qui è la più usata, è stata la prima, questa è, amorosa mia, un affetto particolare, perché è cremosa, è vanigliata, sa di poncorne, sa di caramello, sa di crocantini, sa di feste baisane, è buonissima, sa di latte condensato, è un, è una profumazione che adoro, adoro, soprattutto per le sere amo, e amo anche indossarla quando fa la dolce guannana, e mi piace tantissimo, questa è stata la mia prima, 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 agua profumata di Sol di Janeiro, e Brazilian Cross, eccola, poi, sono anche le piccole, io le piccole ce ne ho due solo, lei, e questa, che sta da, una delle ultime comprate, che si chiama, Esther Ours di Sol di Janeiro, io non so come si pronuncia, il nome è questo, lo leggete, mi vedo questa, non c'è non il capino, eppure sono, è come questa, la misura, questa è bellissima, la bottiglia, è bellissima, è After Ours di Sol di Janeiro, che non mi vuole ascoltare, lo vado a leggere, d'altra parte, perché io non lo so pronunciare, so parlare, ma anche, in italiano figuriamo l'inglese, non so se è inglese, se si è, non lo so, va bene, questa è una, invece, se l'altra è più cremosa, più cucolosa, più, più nocioline tostate, quell'altra, questa invece è più dolce, non è più dolce di questa, questa è più fresca, però è dolce, è vanigliata, anche lei, è fruttata, c'ha tanti fiori bianchi, poi troviamo caramello, fiore, paciuli, troviamo il pesciato caldo, balsamico, andiamo a vedere le sue note, troviamo rives nero e pera in testa, vaniglia e gelsomino notturno nel cuore, panna montata e fresca sempre nel cuore, e nel fondo caramello, paciulli, e ambrosa, è davvero fantastica, questa è dolce, però è più fresca, è più, è più fresca, quindi è per quelle che non amano, che le vengano dietro le mosche, perché è troppo dolce questa, c'è una, è un'oczione, veramente, freschissima, che è sempre dolce, anche lei, vanigliata, coccolosa, ma è molto più fresca di lei, quindi sono bellissime, queste confezioni piccole, perché ha tanti profumi, tante agua profumata, e non vuole pienarsi di agua profumata, io invece mi pieno anche di quelle, andiamo alla più famosa, che è il 68, dove sei, no, la più famosa è il 62, 68 quella è un po' rossina, vedete che già la bottiglia è più grande, perché è di 250 ml, qui troviamo che, e è un po' tropicale, è fruttata anche questa, ma è fiorita, è vanigliata, è muschiata, questa c'è anche di, dei profumi, di, un profumo che ho de Manzera, è Instant Craft, c'è anche di quel profumo lì, c'è un po', è un po' un fresco piccantino, c'è anche di talcato, ma anche di marino, e poi anche aromatico, qui troviamo, pistaggia, non so che, lisci, gelsomino, note marine, i viscus, le note di viscus, sento, poi troviamo un fondo di vaniglia, e muschio, questa è la più fresca, no, non è la più fresca, ma insomma, questa è freschissima, per, anche qui, per le amanti dell'agua perfumata, proprio fresche, che hanno bisogno di questa freschezza, perché è un caldo tremendo, qui troviamo veramente un qualcosa che ti igienizza, che ti, come si chiama, ti riempia di vitamina, di voglia di freschezza, di voglia di fresco, perché lei è una giornata calda, sotto il sole, con questi profumi, possiamo spursarsi, noi sentiamo già la freschezza, e la bontà, ci sentiamo già anche un pochino più puliti, un pochino più a posto, certo no, sopra il sudore, gente, perché profumazione sul sudicio, e sul puzzo, fatte peggio che meglio, comunque sono anche bellissime da indossare, per uscire fuori la sera, anche per, dopo la doce, andare a nanna, sono davvero molto molto carine, e qui troviamo la 68, che si chiama, Creiros, Creiros, 68 di sol di janeiro, poi andiamo a quell'altra, che qui troviamo la 71, 71 è sempre sul giallino, parecchio giallino, che adora, anche qui troviamo, una profumazione, anche lei, molto vanigliata, con frutta secca, buona, questa è buonissima, con salato, con cioccolato, talcata, questa è, l'adoro, la 71, l'adoro, mamma mia, è buona, qui troviamo, si chiama, lei si chiama, Creiros, 71, sol di janeiro, qui troviamo, caramello, noce, noce di mandorla, vaniglia, cioccolato bianco, sale marino, e fiore di cocco, fiore di cocco, questa, tra le gourmand, questa è una delle più coccolose, una delle più dolce, una delle più belle, secondo me, è stupenda, è veramente, una mandorla tostata, una mandorla succherina, tostata, quando si passa, da quelle, nel mercato, che vendano i chicchi, si sente passare, tutte quelle mandorle, che stanno tostando, molto, questo odore di croccantino, anche se qui ti dichiara, che ha le noce di macadamia, ma insomma uguale, vaniglia e caramello, questo è quello, cioccolato bianco, sandalo marino, e fiore del cocco, questa è una coccola, per me che sono una gourmand addicte, questa è una coccola, una coccola veramente, top, 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 entra tra le mie preferite, della linea più gourmand, delle quelle più grandi, la 71, poi andiamo sulla 59, che è questa che è uscita, sul colore, sul lilla, e questa è dolce dal cada, con la nota di violetta, perché è un fiorito, con nota di violetta, con vaniglia anche lei, e un pizzico di note legnose, troviamo nel cuore, l'orchidea e vaniglia, troviamo lo zucchero, e la violetta, e il sandalo, qui troviamo, una violetta bellissima, molto succherata, petra di violette, dentro una suppiera, con tanto zucchero, magari, un pizzico anche di menta, molto fresca, ma dopo, nel seccato, viene fuori questo odore, di vaniglia e violetta, e zucchero a velo, e poi viene questa parte, del sandalo, un picantino un po', con questa nota di sandalo, questa è più particolare, se non ti piace, le fraganze molto fresche, molto dolce, questa è più particolare, perché c'ha il sandalo nel fondo, c'ha l'orchidea di vaniglia, e poi c'ha anche, lo zucchero, con tanta, tanta violetta, e quindi, questa è davvero, un fiore, un fiorito, dolce, piccantino, con tanto sandalo, è stupenda, questa è, la 59, che si chiama, che è io, 59 di sol di gianeiro, bellissimo, bellissimo anche il colore, queste sono tutte, queste tre ultime, come vi ho fatto vedere, sono tutte, 150 ml, piccole ce n'erano solo due, poi andiamo alla 62, che è la più famosa, di tutti, è vanigliata, caramello, dolce, mandorlada, frutta secca, legno, talcata, salato, fruttato, balsamico, lei è quella più, famosa, e qui troviamo, pistacchio e mandorla, quindi, anche lei è spettacolare, buonissima, 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 perché qui è, è un dolce, è un pistacchio, mandorlato, ma quello che sento di più, è la nota di mandorla, quella, quella, quella nota di mandorla, un po' amara, che poi viene fuori la dolcezza e la cremosità del pistacchio, poi c'è fuori l'elotropio e il gelsomino nel cuore, quindi una parte, pochino più, più personale, più, più fiorita, con un fondo di caramello, vaniglia e sale marino, lei è bellissima, è spettacolare, è la più famosa, ma non è la mia preferita, io le amo tutte, ma lei non è la mia preferita, io preferisco più, più la 71 della 69, molto, molto di più, buonissima, 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 questa è molto cremosa, si sente tanto, tanto, la, il pistacchio e la mandorla, molto, molto, quindi nel piacere, pistacchio, mandorla, vaniglia, caramello, sale marino, elotropio, gelsomino, sono molto persistenti, queste profumate, molto, molto, a volte, sono quasi più persistenti l'oreo, di un profumo, vero e proprio, poi andiamo alla mia preferita, che non è ancora la ultima, io questa l'adoro, io, è la mia preferita in assoluta, più di tutti, è la 40, che si chiama, chi io ero sa, 40, soldi, genero, questa è vanigliata, fruttata, dolce, talcata, muschiata, fiorita, spessiata, fresca, ambrata, balsamica, e qui troviamo, questa è, questa è nel seccato, e per me è la più bella, è quella che, ricevo più complimenti, di tutti, addirittura al mare, io so che non ci si può dare profumazioni, in acqua profumata, per andare al mare, ma io me le do, sia profumi che acqua profumata, me le do, camminavo con, il mio lettino, verso il mare, le mie amiche, che erano dietro, che profumo hai oggi, oggi c'è un profumo buonissimo, e le ho detto, no, non è un profumo, è un'acqua profumata, la numero 40, disse mia mia amica, eh, l'ho vista ieri sera, su Durla, Darla, sulla camminata, quando siamo andati a fare il giro, a Orbetello, e l'avevo vista di sé, è buonissima infatti, qui troviamo prunja, in il testa, prunja, ambra, nera, rives nero, orchidea, e gelsomino, nel centro, e nel fondo, vaniglia, note boschiva, e muschio, ma io sento tantissimo, tantissimo, una cremosità, di questa prunja, sento moltissimo, l'ambra nera, sento tantissimo, il rives nero, lei, gente, lei, la mia, mai più senza, e il, per me, lei, io, si devo consigliare, una profumazione, da andare a correre, e comprarla, di usarla, tutti gli anni, tutte le state, questa, la 40, la dovete provare, la 40, è un dolce, ma un dolce fiorito, un dolce succherino, un dolce elegante, un dolce fruttato, è un, è bellissima, la 40, la dovete provare, la dovete sentire, io la super, super consiglio, lei che si fida di me, lei è la mia preferita, se ne dovete avere due, io consiglio, una super golossona, quindi la 71, e una più legantina, più fresca, più fruttata, quindi la 40, fiorita fruttata, bellissima, poi per ultimo, ma non per importanza, questa, che non ho, scaricato la, le sue note, e parliamo di, non ci vedo la massa, soldi, gianero, radio, radiance, questa, che era uscita, che, è, un colore, limonata, un po', un lime, un po', vedete, è bellissima, io la, ho comprato subito, appena era uscita, questa, è buonissima, anche lei, è buonissima, buonissima, molto, ma molto fresca, molto carina, anche lei, è un tocco, anche lei, mi piace molto, dietro a lei, c'è subito lei, è davvero, tu diresti, è limonosa, con lime, invece no, è, molto fresca, e secondo me, è fiorita lei, non c'ho le note qua, ma, sento queste note fruttate, fiorite, molti fiori sento, molti fiori bianchi, dentro questa, anche questa, la consiglio tantissimo, e, e qui, con questa, che purtroppo non ho le note, e, ho finito questo mio video, perché ne avevo solo, ne ho solo queste, ne ho sei grandi, dei 250, e due piccoline, da 95, con questo video, delle mie acque profumate, io vi saluto, ora se si la folli, vi prendo così, eccole, queste sono quelle grandi, uh, mi cascava, e queste sono le piccole, non è successo niente, queste sono le piccole, quindi, con questo, io ho finito il mio video, vi ringrazio, e, di cuore, mi mando un grandissimo bacio, come sempre, vi dico, se non siete iscritti al mio canale, vi invito a farlo, non costa nulla, mi ha aiutato a crescere, mi stimolate, mi mando un grandissimo bacio, e attivate anche la campanellina, un commentino giù, in, 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 Infobox, ditemi, quali sono le vostre preferite, di acqua perfumata, di sol di janero, e consigliatemi qualcuna, un bacio grande, e al prossimo video, ciao!